Il signor Francesco Marchesini, stasera gli arbitri saranno il signor Joseph Silecchia e Andrea Davoli. Come si diceva, ottava giornata del massimo campionato di Serie A1. Entrambe le compagini arrivano dalla settima giornata in maniera però differente, mentre il Trissino è tornato alla vittoria contro lo Scandiano per 5-2. Il Sandrigo ha perso di misura un altro derby a Bassano, partita combattutissima, che però ha visto poi i tre punti andare appunto alla squadra del Bassano. Stasera sarà il momento del riscatto per il Sandrigo. Dall'altra parte invece vuole allungare la striscia positiva il Trissino. Andiamo a vedere quelli che sono i giocatori schierati in pista per quanto riguarda il Trissino. vediamo subito Alberto Greco, quindi Neves con Ventura e quindi con Andrea Malagoli ovviamente in porta. C'è Adria Catalea dall'altra parte invece subito in pista. Nicoletti con Cacao, Pozzato e Vasquez per quanto riguarda invece il, anzi scusatemi, non è Pozzato, è Poletto. in pista per il Sandrigo ovviamente in porta c'è Mauro Dalmonte con il Trissino. Adesso in possesso della palla si prova al centro della pista, gira la tra con Ventura a provare a fare da regista questa prima manovra. Tiro intanto dalla distanza proprio del giocatore Diogo Neves. Ci prova dalla distanza, un schema di gioco che abbiamo visto utilizzare spesso in queste partite da parte appunto della formazione di Sergio Silva. Ancora il Trissino in possesso di palla, Ventura si porta dietro la porta di Dalmonte. Tutto chiuso, molto stretta la difesa, è bassa la difesa del Sandrigo, non vuole scoprirsi in questi primi minuti. Trissino è costretto ad andare ancora dietro, porta Ventura, prova a girarsi, Ventura copre molto bene però Dalmonte il suo palio. Pallina che rimane comunque nelle steche del Trissino con Neves a manovrare pallina a Greco. Prova a girarsi ancora il Trissino, centro della pista con Diogo Neves, prova ad allargare il gioco, prova il taglio Ventura. Rimane comunque in possesso di palla, ancora il Trissino in questa manovra sostenuta da Malagoli. Adesso dietro porta di Dalmonte, Malagoli fa tutto il giro, ritorna verso il centro della pista. Tutto chiuso, attenzione perché va a terra. Il giocatore è 74 e subito c'è il cartellino blu, Neves a terra, Poletto. Cartellino blu, attenzione per il Trissino, c'è la possibilità di avere subito una punizione diretta dopo appena un minuto e cinquanta secondi. Cartellino blu diretto per Poletto e quindi la possibilità per Diogo Neves che si porta sul punto di battuta di andare a portare in vantaggio il Trissino. Dall'altra parte ovviamente Mauro Dalmonte che farà di tutto per non permetterglielo. Tutto pronto, vediamo che gli arbitri controllano la posizione dei giocatori all'interno dell'area. Dall'altra parte l'arbitro dice che si può partire, Neves contro Dalmonte. Neves Dalmonte in due occasioni. Paratona del portiere del Sandrigo che riesce a sventare questa occasionissima. Ci mette la stecca proprio all'ultimo quando Neves era riuscito a sbilanciarlo e quindi il risultato che non cambia 0-0. Ma adesso superiorità numerica per due minuti per il Sandrigo. Attenzione l'alza e schiaccia, tentato ancora da Neves. Prova in velocità dall'altra parte, Malagoli. Pallina che adesso arriva nelle stecche del Sandrigo con Cacao. Ovviamente manda Pallina in avanti verso Vasquez. Vasquez cerca di tenere Pallina, cerca di difendersi dall'attacco dei giocatori del Trissino. Ovviamente che cercano di andare a mettere pressione ai giocatori del Sandrigo con Vasquez. Che adesso deve ritornare in velocità in difesa perché il Trissino ha riconquistato Pallina con Ventura. Ancora Neves, ancora Ventura al limite dell'area di rigore. Vediamo che ovviamente la classica modulo di difesa a triangolo. Intanto sta affilata dal traquarti proprio di Ventura. Ancora una parata di Dalmonte. Ovviamente si diceva la classica schema difensivo che vede i tre giocatori messi a piramide o a triangolo proprio davanti al portiere a tentare di respingere gli assalti della squadra che invece è in quattro giocatori, che ha quattro giocatori in movimenti. Ci prova ancora Ventura. Attenzione, Pallina rimane lì per un attimo. Riesce a toccarla a Nicoletti. Però Malagoli riesce a recuperarla. Malagoli non look per Ventura. Ancora Malagoli cerca di allargare. Non riesce a trovare lo spazio per entrare. Trissino con Neves. Quindi Ventura. Neves, il tiro di Neves è la pallina che viene smorzata. Quindi recuperata ancora da Nicoletti. Sendrigo che resiste a questi due minuti di inferiorità numerica. Nicoletti cerca di portare Pallina. Ovviamente quanto più possibile riesce a resistere all'attacco di due giocatori e va a prendersi anche un fallo di squadra su una spinta proprio di Andrea Malagoli del Trissino. Punizione quindi per Trissino con Nicoletti che va sul punto di battuta. Di vicino vediamo Caccao e Vasquez. Nicoletti prudentemente torna verso la propria metà pista. Attenzione perché viene dato anche un secondo fallo di squadra. Neves che non stava rispettando le distanze regolamentare e viene toccato ancora un'altra volta. E questa volta arriva il cartellino blu, credo diretto, per Andrea Malagoli. Quindi adesso invece sarà il Sandrigo che potrà andare alla punizione di prima. È riuscito a prendersi un cartellino blu in tre contro quattro il Sandrigo. E quindi adesso ci sarà Caccao, lo specialista, nonché capocannoniere del Sandrigo. Con nove reti in sette giornate di questo campionato. Claudio Caccao contro Adria Catala. L'arbitro controlla che sia tutta posta a posizione in gabbia di Catala. Parte Caccao. Caccao contro Catala. E la pallina che esce però alla destra di Catala. Non ha tirato perfettamente questa punizione da parte del campione brasiliano Neves. Intanto ritorna in possesso di palla. Adesso ovviamente la situazione si è invertita con il Trissino che dovrà giocare per due minuti in inferiorità numerica. Ventura cerca di tenere largo il gioco. Ci prova anche Greco. Greco cerca di portare a spasso un po' di giocatori del Sandrigo. Ventura ancora Greco. Centro della pista. I giocatori in prova. Ci prova in tanto una stafilata dalla distanza proprio di Reinaldo. Ventura nessun problema ovviamente per Dalmonte. con adesso il Sandrigo che prova ad andare a tessere quella che è la manovra offensiva. Ci prova e non riesce l'ottimo assist di Vasquez per Caccao che però non riesce a mettere dentro pallina. Intanto viene chiamato subito un time out da parte di Sergio Silva. andiamo a riassumere la situazione qui al palazzetto dello sport di Sandrigo quando mancano 20 minuti e 23 secondi alla fine del primo tempo di questo derby tra Sandrigo e Trissino. Valido per l'ottava giornata del massimo campionato di Serie 1 che ha già visto due cartellini blu combinati dagli arbitri che ricordano essere il signor Joseph Silecchia e Andrea Davoli. il primo a Poletto ma Neves poi non è riuscito a trasformare la punizione di prima grazie anche a una grande paratona proprio del portiere Mauro Dalmonte e ancora prima che scadessero i due minuti di superiorità numerica c'è stato invece il blu dato al Trissino ad Andrea Mallagoli e in quel caso è andato invece Cacao a provare a mettere pallina alle spalle di Adria Català ma anche in quel caso non è riuscito a mettere pallina dentro la gabbia e il risultato quindi che non cambia ma il Trissino che deve ancora scontare i due minuti di superiorità numerica. Una punizione intanto adesso per il Trissino che riparte proprio da Ventura prova a lanciare il lungo pista, attenzione perché poteva ripartire in contropiede il Sandriga è stato rischioso questo passaggio di Ventura proprio verso Alberto Greco attenzione ci prova, ancora Cacao a entrare, niente da fare Vasquez prova ad allargare verso Nicoletti, Vasquez ancora Nicoletti al limite dell'area vede per un attimo Cacao, Vasquez prova la triangolazione va a cozzare però contro i pattini proprio di Neves, Cacao dietro porta per Pozzato ancora dietro per Nicoletti, sta filata di Nicoletti fuori dallo specchio della porta attenzione perché riparte velocissimo e bellissima l'occasione del Trissino che riesce in contropiede, attenzione siamo già dall'altra parte e la rete pazzesca di Cacao Claudio Cacao porta in vantaggio il Sandrigo dopo aver rischiato il Sandrigo di subire una rete in inferiorità, in superiorità numerica è ripartita la compagine di Marchesini e in contropiede è riuscita a servire poi Cacao, gol spettacolare che porta quindi in vantaggio al sesto minuto Sandrigo 1, Trissino 0 per quando mancano 19 minuti e 25 secondi alla fine del primo tempo con adesso si è ristabilita la parità numerica anche in pista per quanto riguarda anche il Trissino con Garzia che è entrato per la squadra di Sergio Silva Ventura adesso manovra al centro della pista prova con Neves ancora Ventura molto alta adesso invece la difesa da parte dei giocatori di Marchesini che vanno a difendere ancora al centro della pista che vanno a difendere addirittura a mettere la pressione al centro della pista intanto tiro dalla distanza è una deviazione pericolosissima Nicoletti intanto va a recuperare Pallina nell'angolo prova in velocità Nicoletti Pallina dentro, però Neves riparte in velocità per il Trissino passaggio troppo largo per Garzia un momento concitato della partita Pozzato, il tiro di Pozzato con la parata ancora di Adria Catala attenzione perché adesso Vazquez parla di una pallina importante riescono a tornare comunque la difesa del Sandrigo Ventura intanto il tiro dalla distanza il pallina che viene comunque recuperata da Garzia che va a subire anche un fallo di squadra il secondo fallo di squadra del Sandrigo mentre sono due anche quelli per il Trissino con Trissino che adesso appunto dovrà battere una punizione la batte in questo momento nell'angolo a sinistra della porta difesa, attenzione perché arriva il tiro improvviso di Garzia che va a sorprendere Mauro Dalmonte non se l'aspettava e subito il pareggio del Trissino con Garzia al settimo minuto parità quindi tra Sandrigo e Trissino dopo la rete al sesto minuto di Cacao arriva un minuto dopo il pareggio di Garzia gran derby fino a questo momento due squadre che si stanno affrontando a viso aperto con adesso Pozzato per il di Sandrigo prova ad allargare il gioco con Vazquez prova il taglio Vazquez ma proprio Garzia va a intercettare Pallina che esce dal rettangolo di gioco Pallina che dovrà essere rigiocata ancora dai verde oro del Sandrigo Cacao prova a vedere il piazzamento di suoi tento un'alza e schiaccia viene fermato però attenzione al Trissino che riparte in velocità Ventura! il tiro questa volta di la spalla salva dal monte velocissimo comunque Ventura nella ripartenza e appena ha un pertugio prova subito il tiro Pallina che esce ancora dal rettangolo di gioco dovrà essere quindi rimessa in movimento con una punizione Cacao va a posizionarsi sull'angolo alla sinistra della porta difesa da Catala con il Sandrigo che rimane in possesso di palla Nicoletti prova ad andarsene Nicoletti Magarsia lì a marcarlo lo porta dietro porta Nicoletti è costretto a tornare sui suoi passi quindi Pozzato tiro dalla distanza di Pozzato esce non di molto dalla porta lo specchio delle porte di Catala attenzione in velocità Greco lungo Balaustra preferisce andare dietro porta della porta di difesa di Dalmonte con Neves quindi Garzia a malavrare per il trissino Neves non riesce a girarsi preferisce tornare al centro pista con Ventura che prova a trovare un suggerimento ancora per Garzia Ventura si posiziona dietro porta Garzia intanto prova a entrare Ventura preferisce tornare però da Neves ancora il trissino ma lo va al centro della pista 10 secondi per arrivare alla conclusione prova un taglio Ventura che viene intercettata con Vasquez che va a recuperarla Pozzato quindi Cacau decima rete per il campione brasiliano prova intanto mettere di palla a mezza altezza proprio Vasquez nessun problema per Catala che la vede partire e quindi trissino che può ritornare a tessere la manovra offensiva e ci riprova dal centro della pista Giro 3 con Neves Ventura quindi Greco prova l'incursione desiste quindi Garzia dall'altra parte Garzia prova a girarsi in velocità adesso molto affollata l'area del San Drigo ha riabbassato la difesa il San Drigo Baricentro appunto che si era alzato è stato lì il momento nel quale si sono aperte le maglie è arrivata la rete del pareggio proprio di Garzia del Trissino che è riuscito a trovare lo spazio per andare al tiro dalla distanza sorprendendo appunto Mauro Dalmonte ma torniamo in cronaca diretta con Nicoletti adesso prova a far ripartire San Drigo adesso il Trissino che cerca di mettere passione al portatore di palla andando a mettere pressing ai giocatori già dal centro della pista un blocco intanto per i giocatori del San Drigo e quindi un terzo fallo di squadra attenzione a Cacao in velocità prova a tagliare verso Pozzato Pallina che viene intercettata in velocità ancora Trissino con Ventura dietro per Neves non riesce a fare filtrare Pallina rimane comunque in possesso di palla proprio il Trissino Ventura dietro ancora per Greco mette di Pallina Greco capisce tutto però Nicoletti la Pallina di Greco era destinata a Garzia che si trovava in profondità nell'area Nicoletti capisce tutto Pallina che esce comunque dal rettangolo di gioco e quindi Trissino che si appresta a battere la punizione Garzia la batte in questo momento torna verso Neves al centro della pista prova a cambiare il gioco dall'altra parte con Ventura e lungo Balaustra sempre Ventura e Neves per cercare di allargare appunto le maglie della difesa del San Drigo prova a andarsene in velocità Neves Pallina che rimane lì a Garzia attenzione perché Vasquez va a togliere Pallina con Nicoletti Pozzato arriva troppo sotto il giocatore del San Drigo che per Catalean nessun problema è grande invece recupero sempre dello stesso Pozzato poi questo recupero difensivo che va a rompere la manovra offensiva del Trissino che adesso prova a far entrare anche Faccin Ventura tiro di Ventura ma l'arbitro vede un fallo di squadra il terzo fallo di squadra del Trissino quindi perfetta parità anche per quanto riguarda fallo di squadra 3 San Drigo 3 Trissino rientra quindi anche Poletto dopo il cartellino blu che aveva visto uscire dalla pista dopo appena un minuto e 50 secondi Poletto rientra in pista per San Drigo attenzione Faccin del Trissino Ventura Neves entra in pista anche Stefano del Santo per quanto riguarda il Trissino che va a sostituire il proprio Reinaldo Ventura prova Faccin ad andare in profondità vede l'arbitro però vede un fallo di squadra del San Drigo per la trattenuta proprio di Poletto su Garzia 18 secondi per andare alla conclusione di questa manovra offensiva 13 minuti e 5 secondi alla fine prova la stafilata attenzione Neves che prova ad alzare anche Pallina non riesce però ad andare a schiacciarla proprio Garzia va a recuperarla intanto Vasquez Poletto prova ad allargarsi con Pozzato ancora Vasquez viene portato all'angolo a Garzia va a prendersi molto bene la palla quindi Stefano Dalsanto per il Trissino dietro ancora verso Garzia lungo Garzia e il Trissino è costretto a ricominciare Facin quindi Dalsanto ancora centro della pista anche in questa occasione Facin non è riuscito a controllare Pallina che poi è diventata facile preda proprio di Pozzato attenzione perché Pozzato viene fermato sulle altre quarti Neves Neves attenzione prova ad entrare in area viene portato dietro porta proprio da Poletto Pallina che viene intercettata dai giocatori del San Drigo con Nicoletti sta affilata di Nicoletti e la Palatona ancora di Catala Nicoletti ancora per San Drigo la grande pressione di parte di Dalsanto e quindi Pozzato verso Poletto dall'altra parte attenzione Pallina rimane lì infatti facile preda per García Neves per il Trissino 11 minuti 9 secondi alla fine del primo tempo attenzione a Faccin che parla per un attimo la palla si stava involando proprio Poletto Faccin ancora in possesso di palla lungo Belaustra con Dalsanto tiro centrale di Neves una selva di gambe però e l'arbitro vede un attenzione un rigore Vasquez non è d'accordo vede un rigore per il Trissino e quindi possibilità adesso su altra punizione tiro da fermo i giocatori del San Drigo vanno a chiedere ovviamente spiegazioni l'arbitro è andato sicuro verso il disco di centro area e quindi si ha rigore per Trissino con Reinaldo Ventura lo specialista che è rientrato appositamente in pista tra reti per il campione portoghese in questa stagione dall'altra parte Mauro Dalmonte è chiamato quindi a un'altra prova dopo quella dopo la parata su Diogo Neves dopo appena un minuto e cinquanta secondi per cartellino blu proprio a Poletto adesso è chiamato a parare il rigore a Reinaldo Ventura super specialista dei rigori va sul sicuro quindi Sergio Silva l'arbitro controlla che i giocatori siano tutti quanti dentro l'area posizione in gabbia per Mauro Dalmonte Ventura contro Dalmonte e ancora Dalmonte riesce a parare il tiro di Ventura e a sventare la poi la successiva incursione di Garcia si alza sugli scudi proprio Mauro Dalmonte e niente da fare il risultato che rimane sull'uno a uno con Trissio adesso in possesso di palla Facin viene fermato però da Diego Nicoletti prova andare lungo Balaustra Nicoletti attenzione Neves 3 contro 2 Dal Santo con Garcia dietro pallina per Ventura ancora Dal Santo tiro di Dal Santo centrale Dal Nessun problema per Dal Monte Poletto per San Drigo Vasquez allarga verso Poletto attenzione perché viene interrotta la manovra proprio da Facin ma riescono a recuperare la pallina i giocatori del San Drigo in avanti verso Pozzato Pozzato prova andare via Garcia che lo marca tocca pallina va verso la Balaustra nell'angolo Pozzato dietro Porta Pozzato prova l'incursione in area ma non lo molla un secondo Garcia quindi costretto poi andare a cedere pallina Nicoletti adesso ancora per Vasquez tiro di Vasquez piuttosto centrale nessun problema per Catala quindi Facin per il Trissino Dal Santo si ritorna al centro della pista per la squadra di Sargio Silva 8 minuti 54 secondi alla fine del primo tempo è stato chiamato intanto un time out in Sponda a San Drigo Dal Santo Facin Reinaldo Ventura gira tre abbastanza sterile per il momento del Trissino che prova adesso per un'incursione centrale ancora di Facin con Nicoletti che è già andato dall'altra parte passa dietro porta di Catala con Poletto che va a scaricare ancora la pallina dietro verso il centro della pista ancora Nicoletti porta in avanti palla verso Cacao che intanto è entrato in pista per il San Drigo ovviamente è un San Drigo con o senza Cacao è un San Drigo dalle due facce con Trissino che però riparte in velocità attenzione con Garcia che entra in area viene portato però poi all'angolo Garcia quindi dietro verso Ventura Ventura taglia ancora per Garcia e arriva la rete del 2 a 1 spettacolare assist proprio del campione portoghese e arriva la seconda rete doppietta quindi per Garcia che al diciottesimo porta in vantaggio il Trissino con adesso il time out che era già stato precedentemente chiamato proprio da Francesco Marchesini andiamo quindi a riassumere la situazione qui al palazzetto dello sport di San Drigo dove il Trissino ha appena passato in vantaggio grazie a Emanue Garcia che è andato a siglare al sedicesimo la rete del 2 a 1 inizialmente era passato in vantaggio il San Drigo al sesto minuto con Cacao e un minuto dopo invece è arrivato il pareggio al settimo minuto proprio di Garcia e quindi al sedicesimo sempre Garcia porta in vantaggio il Trissino ci sono state tre due punizioni di prima e un rigore in questa partita tutte quante però i tiri da fermo non sono andati a buon fine tutti i gol su azione quelli di questa partita e quindi si deve ricominciare con pallino al centro della pista con 7 minuti e 51 secondi ancora da giocare in questo derby vicentino tra Sandrigo e Trissino con il Trissino che è appena passato in vantaggio e Sandrigo che adesso va a manovrare pallina attenzione perché la pallina viene toccata e può essere recuperata dai giocatori del Trissino con Stefano del Santo quindi con Malagoli 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 va fino in fondo Malagoli si porta proprio davanti a Dalmonte che riesce poi ad andare a parare tiro intanto dall'altra quarta abbondantemente fatto la spiega della porta proprio di Pozzato dove entrare Facin in area Sandrigo che va a recuperare la pallina con Poletto quindi No Look di Garzia arriva la rete di Nicoletti Diego Nicoletti la rete che non ti aspetti bellissimo anche in questo caso l'assist proprio di Cacao No Look che ha lanciato Nicoletti che va a alzare pallina che si infila alle spalle di Adria Catala per il 2 a 2 pochi secondi dopo la rete di Garzia il pareggio anche di Diego Nicoletti parità assoluta e come anche il derby Breganze Trissino le partite sono veramente il derby sono veramente spettacolari attenzione il Sandrigo dopo qualche secondo si porta in vantaggio tutti si dimenticano di Poletto che dall'angolo alla sinistra scusate di Pozzato che all'angolo alla sinistra di Catala va a mettere pallina proprio alle spalle dell'estramo difensore del Sandrigo del Trissino e Sandrigo che si riporta in vantaggio a pochi secondi della rete di Diego Nicoletti e quindi il Trissino che deve si è ritrovato dal 2 a 1 della rete di Garzia il sedicesimo poi il pareggio del diciassettesimo quasi un minuto dopo proprio di Diego Nicoletti e a qualche secondo di distanza arriva anche la rete del vantaggio del 3 a 2 di Pozzato quindi derby spettacolare ancora Pozzato che va a prendersi la pallina viene fermato però con Malagoli Malagoli che prova l'incursione fino alla fine Malagoli attenzione Nicoletti Cacao si era detto comunque che l'inserimento di Cacao all'interno di questo Sandrigo avrebbe fatto la differenza infatti due reti propiziatorie proprio nel momento in cui è entrato il campione brasiliano Polietto adesso in possesso di pallina con Diego Nicoletti si apre ancora per Pozzato Polietto dietro ancora per Pozzato per le vie centrali tutte chiuse quindi si ritorna verso ancora Nicoletti intanto viene chiamato un altro time out sempre sponda Sandrigo l'ultima volta che aveva chiamato il time out era arrivata il vantaggio del Trissino e subito eccessivamente in un minuto è successo tutto pareggio e quindi sorpasso del Sandrigo Ventura adesso con Greco intanto che è rientrato in pista per Trissino quindi Malagoli Facin Ventura e Greco i quattro giocatori di movimento per Silva attenzione che prova il giro Malagoli andando a sorprendere il portiere sul suo palo Poletto in avanti verso Pozzato Palline che però si impegna e esce dal rettangolo di gioco 4 minuti 55 secondi alla fine del primo tempo qui al palazzetto dello sport di Sandrigo dove stiamo assistendo anche in questo caso a un derby spettacolare tra Sandrigo e Trissino con il Sandrigo che si era portato in vantaggio il sesto minuto e un minuto dopo aveva dovuto subire il pareggio da parte di Garzia del Trissino passano una decina di minuti e al sedicesimo arriva la rete del 2 a 1 di Garzia ma poi qui veramente succede di tutto un gol di Diego Nicoletti a pochi a un minuto dopo quello di Garzia porta il pareggio il Sandrigo e qualche secondo dopo l'azione successiva Pozzato porta in vantaggio ancora Sandrigo quindi situazione completamente capovolta nel giro di pochi secondi 4 minuti e 55 secondi ancora da giocare in questo primo tempo 4 i falli di squadra del Sandrigo 3 invece quelli del Trissino con Trissino che va a toccare pallina Facin verso Greco quindi Ventura provano a triangolo il centro della pista i giocatori attenzione perché arriva il fallo di squadra credo fosse di Poletto su atterramento di Malagoli i giocatori del Trissino volevano forse qualcosa di più l'arbitro dice che il fallo è cominciato fuori dall'area di rigore 5 falli di squadra quindi per Sandrigo 3 quelli del Trissino con Malagoli sul punto di battuta lì pronti sia Ventura che Facina a sfruttare questa occasione Malagoli per Facina tiro di Facina attenzione perché Vasquez capisce tutto va a riprendersi pallina ma se la porta avanti con i patini secondo l'arbitro quindi pallina va restituita alla Trissino Facina con Ventura prova ad allargare verso Malagoli ancora Ventura centro della pista prova a entrare ancora Malagoli pallina che rimane lì attenzione con Cacao che sbroglia la situazione prova a darsene in velocità tiro di Cacao però trova la contraposizione del difensore del Trissino pallina che si impenna forse in questa occasione è arrivato a rimorchio proprio Vasquez avrebbe potuto Cacao cercare di passare ma probabilmente non c'è la luce tra lui e il giocatore spagnolo Poleto adesso per San Drigo lancia lungo Balea Rustra proprio Cacao va a prendersi in maniera molto bella elegante e netta la pallina Ventura attenzione e lancia Andrea Malagoli la rete di Malagoli che va a pareggiare le sorti qui a Trissino al 22esimo minuto il pareggio dopo l'assist visto proprio da Reinaldo Ventura che era andato a prendersi una pallina in maniera molto pulita in difesa alzato subito lo sguardo ha visto Andrea Malagoli ha lanciato il giocatore il quale stoppa e riesce a infilare la porta di Dalmonte sulla sinistra per la perfetta parità del 3-3 Ventura intanto prova ad allargare verso Faccina il centro della pista ancora per Malagoli in mezzo a 3 a Malagoli si gira Faccina prova a tirare riesce a intercettare pallina proprio Vasquez che prova a chiedere collaborazione a Cacao pallina troppo larga per Vasquez che cerca di girarsi ma la pallina esce dal rettangolo di gioco viene chiamato anche il secondo time out per Sergio Silva ricordiamo che si possono chiamare due time out per tempo per ogni squadra il primo di 60 secondi e il secondo di 30 secondi per ogni squadra e per ogni tempo riassumiamo quindi la situazione qui a Piazzetto dello Sport di San Drigo dove a 3 minuti e 23 secondi alla fine del primo tempo la situazione di perfetta parità tra Trissino e San Drigo 3 a 3 Cacao Nicoletti e Pozzato per quanto riguarda il San Drigo i marcatori dall'altra parte doppietta di Garcia e quindi Malagoli qualche un minuto fa per il pareggio del Trissino si può ricominciare a giocare con Vasquez per il San Drigo Cacao per Vasquez questa volta dietro porta di Catala va a vedere i movimenti del giocatore al centro dell'area preferisce però tornare verso Pozzato dalla distanza il tiro si lamenta Vasquez per un tocco di pattino l'arbitro si dice che si può proseguire con Facin adesso per Trissino ancora Ventura tiro di Ventura questa volta intercettato però proprio da Cacao Cacao prova ad andare lungo Balaustra non riesce ad arrivarci però ad agganciare pallina Vasquez che chiama alla calma proprio il campione brasiliano Greco per Ventura dietro Facin ancora Greco per il Trissino con Ventura a manovrare al centro della pista il Trissino prova a cercare spazio Ventura procede a allargare verso Facin fatica però a entrare nelle maglie del San Drigo il Trissino ci prova adesso con un taglio Ventura dietro ancora finta del tiro Greco adesso arriva la stafilata di Greco passa sopra la porta del monte la pallina può essere recuperata dal San Drigo con Cacao quindi Vasquez Vasquez centra della pista prova a girarsi tiro di Vasquez centrale nessun problema però per l'estremo difensore Trissinese Adria Catalan spozzato adesso in possesso di palla con Nicoletti l'arbitro vede però un tocco di stecca e quindi arriva anche il sesto fallo di squadra per il San Drigo ricordo che al decimo fallo ci sarà la possibilità di battere una punizione di prima per la squadra che lo subisce ventura ventura adesso per il Trissino con Faccini ancora ventura centro della pista centrale il taglio arriva però a sbrodiare tutto sempre l'onnipresente Vasquez attenzione però perché sbaglia e la traversa salva il San Drigo aveva provato a liberare l'area Vasquez che poi è andato invece a servire inaspettatamente proprio Malagoli che si è trovata una palla da buttare proprio dentro alle spalle di Dalmonte e invece il palo è riuscito a salvare questa disattenzione che poteva costare veramente molto cara al San Drigo Nicoletti intanto sul punto di battuta si può ricominciare a giocare ancora Nicoletti verso Poletto subito marcato però da Malagoli Poletto riesce a chiudere il triangolo l'arbitro dice che si può proseguire era finito a terra proprio Poletto al limite dell'area l'arbitro ha fatto il cenno che si può proseguire quindi siamo entrati anche nell'ultimo minuto di gioco con Greco in possesso di pallina per il Trissino Ventura prova ad allargare verso Facin ancora Greco lungo Balaustra per il Trissino Greco Facin prova ad allargare il gioco il Trissino per cercare di allargare le maglie dei giocatori della difesa del San Drigo Nicoletti riesce ad andare a intercettare pallina ultimi 18 secondi Poletto va a forzare il tiro Vasquez poi vai a recuperare l'attenzione bella Cacao ancora per Poletto ed è un'occasionissima questa centro dell'area per il San Drigo ultimi tre secondi per arrivare al tiro per il Trissino ci prova dalla distanza Greco ma arriva anche la sirena del fine del primo tempo ricordiamo il risultato qui dal palazzetto dello sport di San Drigo dove il San Drigo e il Trissino sono sul risultato di 3 a 3 si stanno scaldando anche gli anime in pista sicuramente un secondo tempo tutto da vivere in pista Grazie. 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 di Mauro Dalmonte a evitare il vantaggio del Trissino, poi invece arrivò al sesto minuto la rete dell'1 a 0 di Claudio Cacao, quindi Neves contro Dalmonte, occasione per Trissino, l'arbitro controlla la posizione di Dalmonte dentro la gabbia, si può partire, e arriva la rete del vantaggio di Diogo Neves, al secondo minuto Neves porta in vantaggio il Trissino qui al palazzetto dello Sport di San Drigo, e quindi adesso San Drigo che sarà costretto a inseguire il risultato dopo essere stato in vantaggio per due volte, ci prova subito ributtandosi a capofitto in avanti con Vasquez, prova Vasquez, andare dietro porta, va a disturbarlo per un attimo, difensore del Trissino, Vasquez, lo fece cercare la palla proprio a cacao Trissino intanto, tiro dalla distanza di Greco, esce dallo specchio della porta Poleto, prova per via centrali, Poleto va molto bene, in questo caso Malagoli che va a togliere di pallina e lancia in velocità, Greco, troppo sotto il portiere però il giocatore, l'attaccante del Trissino Nicoletti adesso in velocità, prova ad andare in avanti, viene portato dietro porta da Garcia Nicoletti va a chiamare anche lo schema, prova il tiro intanto dalla distanza, Poleto ha rischiato il contropiede, Nicoletti ancora un'altra incursione, dietro porta l'arbitro dice che bisogna rifare la punizione, ovviamente era stata battuta con i giocatori in movimento attenzione perché gli animi si scaldano tra Nicoletti e Malagoli volano scintille darvi ovviamente molto sentito e continui capovolgimenti di fronte secondo tempo che si preannuncia caldissimo qui al Palasport di San Drigo condizione che doveva essere ribattuta proprio dal Trissino si posiziona proprio Malagoli Trissino che può ripartire in velocità con Neves dietro per Greco, ancora Neves Malagoli, giro a tre per la squadra di Sargio Silva prova ad allargare il classico schema a triangolo delle formazioni di Sargio Silva la squadra e la difesa giallo oro del San Drigo con Greco finta il tiro Greco, prova ad andare in incursione preferisce poi scaricare dietro verso Neves 8 secondi per andare alla conclusione ci prova dalle distanze attenzione perché la pallina poi gli rimbalzo rimane lì e Greco arriva anche il cartellino blu per Greco del Trissino l'arbitro è andato diretto dal giocatore attaccante del Trissino aveva probabilmente commesso fallo con stecca alta e quindi pericoloso per il gioco e adesso sarà Claudio Cacao per il San Drigo ad avere l'occasione di portare la situazione di nuovo in parità Adria Catala intanto si posiziona all'interno della gabbia Cacao contro Catala può partire Cacao contro Catala sale di finte pallina fuori di Cacao che poi non riesce ad andare a riprendere e quindi il risultato che non cambia adesso ci saranno due minuti di superiorità numerica per il San Drigo seconda punizione sbagliata per il campione brasiliano in questa partita adesso Malagoli prova ad andare pallina verso Garcia ancora Malagoli Noluca verso Neves 5 secondi in antigioco e quindi pallina che dovrà cambiare proprietario ci pensa Nicoletti a far ripartire le azioni ci prova Vasquez con un tiro che però viene deviato pallina che può essere recuperata ancora da Malagoli per il Trissino attenzione Nicoletti va a intercettare pallina per il San Drigo e arriva la bella triangolazione tra Nicoletti Vasquez ma Cacao poi non riesce a infilare pallina era stata perfetta l'azione del San Drigo è mancata proprio l'ultimo tocco intanto prova pozzato in velocità andarsi a prendere la posizione all'esterno dell'area del Trissino con Nicoletti Nicoletti ancora a manovrare Vasquez ancora per Nicoletti Pozzato ancora Nicoletti per San Drigo Pozzato prova per via centrali pallina troppo alta per Cacao per andarla a deviare niente da fare 19 minuti 40 secondi alla fine del secondo tempo 4 a 3 per il Trissino qui al Pelle Sport ottava giornata il massimo capitale di Serie 1 e superiorità numerica ancora per qualche secondo per il San Drigo con Vasquez che va a prendersi pallina quindi Nicoletti allarga il gioco verso Pozzato Nicoletti ancora per via centrali classica difesa a 3 del Trissino prova Cacao metterla dentro pallina Neves va però a intercettarla Pozzato dietro porta Nicoletti insiste ovviamente San Drigo in superiorità numerica Vasquez ancora per Nicoletti sta filati Nicoletti fuori dallo specchio della porta pallina che va a essere recuperata ancora da Cacao Cacao dietro porta del portiere del Trissino il tiro di Pozzato che però viene recuperato da Ventura finisce anche nella superiorità numerica e quindi risultato che non cambia con Nicoletti adesso per San Drigo butta dentro pallina pallina che va a essere recuperata da Pozzato e arriva la rete proprio di Pozzato per il 4 a 4 riesce a infilarsi all'interno dell'area la sinistra della porta di Catalan entra fa fuori anche il portiere mette pallina alle spalle dell'estremo difensore del Trissino e quindi anche Pozzato è da giungere agli autori delle reti del San Drigo stasera insieme a Cacao Nicoletti sesto minuto quindi Pozzato riporta in parità la situazione qui al palaisport di San Drigo 4 a 4 attenzione adesso il San Drigo sull'area dell'entusiasmo prova la stafilata con Cacao attenzione però perché il Trissino riparte in velocità con Garcia pallina che viene però murata proprio dello stesso Pozzato al contropiede dell'altra parte Nicoletti e non arriva a passare pallina proprio a Cacao arriva fino alla fine e quindi la parata proprio di Catala tanto viene chiamato il time out per il Trissino primo time out di questo secondo tempo andiamo a riassumere la situazione quindi qui al palaisport di San Drigo dove le squadre se ne stanno se ne stanno giocando punto a punto dopo la retta iniziale di Cacao il sesto minuto nel primo tempo è arrivata il pareggio di Garcia il settimo quindi il 2 a 1 del Trissino al sedicesimo sempre con Garcia il diciassettesimo però Nicoletti riporta le situazioni in parità e con Pozzato il diciottesimo per il 3 a 2 dopo qualche secondo dalla retta di Nicoletti e quindi il 3 a 3 di Malagoli a tre minuti dalla fine del primo tempo apre le danze invece Neves nel secondo tempo al secondo minuto per il 4 a 3 al sesto minuto quindi Pozzato doppietta per Pozzato per il 4 a 4 17 minuti 59 secondi da vivere qui al Pala Sport di San Drigo con le squadre in perfetta parità 6 falli di squadra per San Drigo 3 invece quelli di Trissino con il Trissino e adesso dovrà battere una punizione con Reinaldo Ventura già sul punto di battuta con Neves pronto a ricevere pallina Ventura Neves Neves prova ad andare lungo Balaustra si ferma prova a vedere il posizionamento di Garcia al centro chiama lo schema proprio nei confronti del compagno dietro Ventura allarga per Malagoli ancora Ventura Neves tiro di Ventura fuori dallo specchio della porta con Nicoletti che può andare a recuperare pallina Vasquez lungo Balaustra allarga il gioco verso Pozzato ancora Pozzato riesce in qualche maniera a tenere contatto con la pallina per qualche secondo ma poi arriva il raddoppio di marcatura Ventura può andare a recuperare pallina per il Trissino Neves ancora Malagoli quindi Neves per il Trissino finita il tiro preferisce scaricare pallina verso Ventura prova a guadagnare metri la squadra di Sergio Silva preferisce tornare però ancora dietro per la stapilata dalla distanza di Ventura Nicoletti perdonate ma aveva recuperato pallina attenzione a Neves scusate alla Ventura che aveva messo lì una pallina che poi era rimasta in imbalzale davanti a dal monte adesso palla che esce dal rettangolo di gioco e dovrà essere rigiocata dal Sandrigo 16 minuti 34 secondi alla fine del secondo tempo 4 a 4 il risultato tra Sandrigo e Trissino in questo spettacolare derby Pozzato in velocità marcato stretto proprio l'avventura l'arbitro dice che si può proseguire attenzione perché in avanti ne stava approfittando Neves ancora Neves in possesso di palla dietro porta di Del Monte all'angolo adesso Garzia l'arbitro vede un fallo di squadra il settimo fallo di squadra per Sandrigo che sta avvicinando i 10 falli di squadra necessari per il Trissino per andare a battere una punizione di prima e Malagoli va a prendersi un'altra punizione l'arbitro vede una steccata di Nicoletti ottavo fallo di squadra palline che può essere rimessa in gioco dai giocatori del Trissino con Neves che prova a girarsi ancora dietro per Ventura Malagoli prova ad allargare dall'altra parte ancora verso il campione portoghese prova a lanciare Neves il tiro di Neves alto sopra la porta di Del Monte con Nicoletti prova ancora una delle sue solite incursioni scarica pallina verso Cacao che cambia il gioco con Vasquez Nicoletti ancora dietro verso Pozzato attenzione Nicoletti va a farsi intercettare pallina con Malagoli che va a mettere la palla alle spalle di Dal Monte su errore di Nicoletti Malagoli ne approfitta subito al decimo minuto e riporta in vantaggio il Trissino erroraccio qui da parte di Diego Nicoletti che si è fatto intercettare pallina per Malagoli che si è imbolato verso la porta di Dal Monte nessun problema per il campione trissinese a mettere pallina troppo facile dietro alle spalle di Dal Monte e quindi San Diego che dovrà di nuovo andare a rincorrere il risultato attenzione a Malagoli prova Neves Ventura ancora Neves apre ancora per Malagoli intanto viene chiamato anche il time out spondatrissino Ventura Nugo Balaustra ancora per Malagoli dietro porta con pallina che viene toccata per un attimo da Cacao l'arbitro ha fischiato anche un fallo e quindi arriva il time out chiesto da Sergio Silva abbiamo ancora parlato della classifica della serie 1 dopo sette giornate che vede il Lodi già in fuga con 18 punti dietro il Breganza 13 quindi il gruppo di Forte dei Marmi Valdagno 12 punti Folloni Catrissino Sandrigo Viareggio e Scandiano 10 punti con Bassano a 7 quindi Monza e Correggio 6 Montebello a 5 insieme al Sazzana quindi una classifica ancora molto compatta tranne ovviamente Lodi che è già in fuga dell'ottava giornata si è già giocata Follonica Forte di Marmi il derby toscano che ha visto Forte Marmini vincere per 6 a 2 in casa del Follonica mentre ricordiamo che Correggio Bassano si giocherà domani tutto tutto pronto quindi per ripartire 14 minuti e 16 secondi alla fine del secondo tempo qui per la sport di San Drigo il trissino in vantaggio per 5 a 4 grazie alla rete di Malagoli che aveva già segnato anche il 22esimo del primo tempo Vasquez per San Drigo prova di allargare il gioco verso Pozzato ancora Vasquez prova ad andare in velocità Pozzato dietro porta di Catanà Vasquez Poletto che intanto è rientrato in pista per la squadra di Marchesini attenzione Poletto e a due passi non riesce però a direzionare la palla che esce alla destra della porta di Catanà con il San Drigo che manovra ancora con Vasquez arriva il quarto fallo di squadra intanto per il San Drigo sui di Neves e non riesce ad andare a impattare con la pallina proprio Cacao sul bel suggerimento proprio di Vasquez attenzione perché un altro intercetto questa volta la volta di Ventura arriva e arriva la rete di Neves altra disattenzione della difesa del San Drigo che si è fatta intercettare pallina il contropiede di Ventura e Neves mette alle spalle di Dalmonte la rete del 6 a 4 su due disattenzioni difensive è nato il doppio vantaggio del Trissino adesso San Drigo che dovrà andare a recuperare due reti 12 minuti e 57 minuti alla fine del secondo tempo con Neves Ventura prova di allargare verso Malagoli con in avanti Garcia Malagoli ovviamente adesso può cambiare anche l'atteggiamento del Trissino intanto si sbraccia proprio Sergio Silva facendo di allargare il gioco anche se 12 minuti nell'hockey Pisa sono tantissimi ovviamente adesso per la prima volta in doppio vantaggio il Trissino può anche ragionare più di contenimento rispetto a quando ha dovuto invece rincorrere il gioco attenzione perché arriva il nono fallo di squadra per San Drigo alla prossima ci sarà la punizione di prima Malagoli intanto dietro porta di Dal Monte Ventura centropista per la squadra di Sergio Silva Neves in avanti Garcia si chiude la difesa del San Drigo Ventura aspetta il piazzamento dei suoi Pallina che riesce ad essere intercettata da Pozzato prova ad andare in velocità Pozzato aveva un Pertugio è riuscito a mettere di pallina poi ci prova a schiacciare anche Vasquez non riesce però ad andare a impattare sulla palla quindi Ventura per Trissino può ripartire Neves ancora l'autore della rete del 6 a 4 Malagoli per Trissino lungo Balaustra viene portato fuori proprio da Poletto si suggerisce il passaggio Garzia viene ignorato per Ventura ancora Malagoli prova il tiro dalla distanza Malagoli e la deviazione nessun problema per Dalmonte ma era una pallina che poteva fare veramente male Pozzato in velocità dietro verso Vasquez mette dentro pallina per Cacao che si gira velocissimo palline centrali nessun problema per Català Garzia adesso per Trissino Malagoli Ventura ancora per la squadra di Sergio Silva che sta cercando di manovrare molto larga in velocità benissimo invece l'intervento difensivo da parte di Vasquez con Cacao adesso per il Sandrigo dietro verso Pozzato pallina che però viene deviata e può essere recuperata facilmente dai giocatori del Trissino Malagoli ancora per Trissino in pista intanto anche Paolo Camello per quanto riguarda il Sandrigo attenzione intanto alla manovra del Trissino con Faccin che è tanto entrato in pista e Garzia non riesce ad andare alla deviazione Pozzato Pozzato fa tutto da solo Pozzato e non riesce proprio nell'ultima parte nell'ultimo tocco a mettere pallina alle spalle di Catalave ha fatto veramente un'azione stupenda Pozzato in avanti ancora prova a insistere il Sandrigo con Pozzato quindi Cacao non si capiscono i due Pozzato rimane comunque in possesso di pallina Cacao entra in area pallina gli viene toccata quindi è Polito che deve andarsela a recuperare pallina nell'angolo per Cacao prova il taglio ma che gli viene intercettato da Malagoli sbaglia però anche Malagoli è Pozzato va a recuperare pallina 8 minuti 25 25 secondi e arriva la rete attenzione del Sandrigo con Polito che va a mettere la pallina alle spalle di Adria Catala e di fatto va a riaprire le danze qui al Palasport di Sandrigo al diciassettesimo minuto Polito accorcia per il 5 a 6 c'è sempre quella spada di Damocle però sulla testa del Sandrigo con 9 falli di squadra per il Sandrigo al prossimo ci sarà una punizione di prima e contemporaneamente c'è la necessità attenzione perché arriva subito la rete di Garcia è stato un tiro dalla distanza che è rimbalzato sulla balaustra e di controbalzo proprio Garcia va a mettere dentro ancora pallina praticamente dopo un'avanciata di seconda di Poletto arriva anche la rete di Garcia la tripletta personale per lui questa sera Nicoletti intanto per Sandrigo che bello ricomincia da Pozzato il Sandrigo centro della pista Pozzato che bello e Poletto ancora in centro pista per il Sandrigo Nicoletti finita il tiro prova la stafilata nessun problema per Catalan adesso il Trissino prova ad allungarsi attenzione perché viene lasciato tutto solo proprio Greco anche in questo caso disattenzione difensiva che bello intanto prova il taglio va a recuperare Malagoli la pallina per il Trissino prova a lanciare in velocità sempre Greco pallina che viene recuperata però dai difensori del Sandrigo non si capiscono comunque pozzato con Chemello pallina che viene recuperata proprio da Greco quindi con Faccin centro della pista Malagoli ancora faccina con Malagoli tiro di Malagoli che però viene smorzato il Sandrigo può tentare di andare in avanti ma la pallina subito sbagliata di Chemello fare fare partire il Trissino con Malagoli che ritorna in possesso di palla prova a cambiare il gioco con Punto Faccina e rilegarla con Garcia ancora Faccina dietro porta di Dalmonte cede palla a Garcia Greco 6 secondi per andare nel tiro ci prova Greco respinta pallina dal da Dalmonte ma la pallina rimane nelle steche del Trissino con Malagoli quindi Faccina ancora Malagoli 5 minuti 28 secondi alla fine del secondo tempo 7 a 5 il risultato per Trissino qui al palazzetto dello sport di San Drigo con Faccina centro pista prova ad allargare scendere lungo pista Malagoli perché la pallina gli rimane lì con Chemello e però Faccina fa un lavoro straordinario in difesa riesce a recuperare pallina tanto è stato chiamato il time out questa volta in sponda Marchesini che vuole andare a dare le indicazioni ai suoi perché bisogna andare a recuperare due reti altrissino ma nello stesso tempo non commettere il decimo fallo di squadra che potrebbe essere veramente pesante per il San Drigo 5 minuti e un secondo alla fine del secondo tempo il risultato ripetiamolo qui dal palazzetto dello sport ottava giornata del massimo campionato di serie 1 7 a 5 per il 7 a 5 per il trissino secondo tempo che ha visto al secondo minuto Neves per il 3 a 4 poi il pareggio impozzato del 4 a 4 quindi il decimo Malagoli al dodicesimo Neves portano il risultato sul 6 a 4 al diciassettesimo Poletto si riporta sotto per il 6 a 5 poi arriva quasi subito dopo pochi secondi il 7 a 5 di Garzia si deve ricominciare con una punizione per il San Drigo che riparte con Nicoletti ancora San Drigo a manavrare pallina con Pozzato Nicoletti ancora per San Drigo palla centrale per cercare la deviazione di Pozzato che rimane comunque in possesso di palla Pozzato ancora verso Nicoletti tiro di Nicoletti pallina che rimane lì e viene intercettato da Malagoli però Poletto riesce in qualche maniera ad andare a recuperare pallina attenzione però perché Garzia se ne va via in contropiede Faccini è grande la parata di Dalmonte dall'altra parte con Poletto che prova a dare fino alla fine attenzione perché adesso la partita si è allargata e arriva anche il decimo fallo di squadra per steccata su Faccini e quindi ci sarà la punizione di prima per il trissime vedremo chi andrà a incaricarsi delle punizioni con credo Malagoli che va a prendere posizione nel dischetto blu all'esterno dell'area del San Diego con Dalmonte che si mette in gabbia può partire Malagoli Malagoli contro Dalmonte Malagoli una serie di finte e la mette dentro Malagoli al ventunesimo minuto Malagoli va a trasformare la rete del 8 a 5 per il trissino a 4 minuti e 0 3 ancora da giocare adesso diventa veramente dura per San Diego andare a recuperare la partita dovrà buttare il cuore oltre l'ostacolo per riuscire a raddrizzare una partita che l'aveva visto praticamente fino al decimo del secondo tempo giocarsela punto a punto con il trissino poi due errori due errori di della difesa del San Diego hanno permesso a Malagoli a Neves di andare a mettere il break a questo derby per il che sta vincendo appunto il trissino Facci intanto va a commettere il quinto fallo di squadra intanto attenzione perché vediamo il cartellino blu appozzato dopo che era stato dato il fallo al trissino è arrivato il cartellino blu appozzato deve essere scappata la parola di troppo l'arbitro non ha gradito l'abbiamo andato a spollire in panca puniti 3 minuti 29 secondi da giocare ancora qui al palazzetto dello sport di San Diego in teoria in teoria il cartellino blu è stato dato a gioco fermo quindi non ci sarà la punizione cioè non ci sarà la punizione di prima ma San Diego che dovrà giocare per due minuti in inferiorità numerica adesso diventa impresa titanica da recuperare il risultato Vasquez intanto prova a tenere la pallina in alto distante dalla porta di Del Monte ma Trissino va a recuperarla con Ventura Malagoli ancora Ventura Malagoli attenzione a Facchin non riesce a domesticare la pallina che poi viene buttata in avanti con Ventura che va a recuperarla Malagoli per il Trissino faccina ancora Malagoli ovviamente cerca di andare anche a mettere un po' di pressione Vasquez il portatore di palla attenzione al tiro di Malagoli fuori dallo specchio della porta non di molto Cacao intanto va a prendersi anche un fall viene chiamato anche quindi l'ultimo time out per Trissino questa volta a chiamarlo è mister Sergio Silva per dare indicazioni suoi di questi ultimi due minuti e diciannove secondi da giocare ancora qui al Pelasport di San Drigo dove ricordo il Trissino sta vincendo per otto a cinque il derby contro il San Drigo intanto abbiamo i risultati finali anche da qualche altra pista con il Lodi che ha vinto 5 a 1 contro il CCC Scandiano che vince 3 a 2 sul Monza 3 a 3 invece tra Valdagno e Montebello perde il Braganzi in casa contro il Sarzana e questi erano i risultati di questa ottava giornata con ancora questa pista dove si sta giocando con Ventura adesso in possesso di Pallina quindi prova ad allargare verso Malagoli quindi Facin Malagoli ancora Facin Pallina che però viene esce dal rettangolo di gioco e Pallina che dovrà essere rigiocata dal Trissino con Malagoli 1 minuto e 56 secondi alla fine sempre in inferiorità numerica ovviamente il Sanbrigo Ventura tiro di Ventura abbondantemente fuori dallo specchio della porta Nicoletti prova ad andare in avanti si posiziona dietro a porta attaccato sia da Garcia che la Ventura riesce comunque a mantenere il processo della Pallina ovviamente è difficile in trae ma ci prova lo stesso a suggerire il passaggio per Cacao che non riesce poi andare a impattare attenzione all'incursione proprio di Malagoli è arrivata tu per tu con il portiere che è riuscito poi a respingere questa incursione profonda proprio di Malagoli Diego Nicoletti intanto ancora per Sanbrigo Vasquez non si intende intanto è tornata anche la parità numerica ultimo giro di orologio qui a Sanbrigo con Garcia all'angolo Vasquez che ha lottato fino alla fine macinando chilometri questa sera Vasquez che va ancora a riprendersi pallina Malagoli Ventura ancora Trissino ci prova in avanti con Neves ovviamente rallenta adesso ultimi 30 secondi di gioco Malagoli prova l'incursione l'arbitro l'arbitro dà il cartellino blu a Poletto e quindi a 17 secondi dalla fine ci sarà un'altra posizione di prima per Malagoli va a incaricarsi ancora Malagoli di battere questa punizione per il Trissino dall'altra parte Mauro Del Monte era appena tornata la parità numerica e subito è arrivato il cartellino blu per Poletto su fallo per fallo su Malagoli il quale è lo stesso che andrà a provare a trasformare questa punizione di prima 17 secondi 17 secondi quindi alla fine del derby Sandrigo Trissino un derby che è stato spettacolare ha visto le squadre in assoluto equilibrio fino al break al decimo minuto del secondo tempo quando proprio lo stesso Malagoli e Neves sono andati a portare in doppio vantaggio il Trissino andiamo in diretta a vedere la punizione di questa questa punizione di prima da parte di Malagoli l'arbitro dice che si può partire Malagoli tira quasi subito fuori dallo specchio della porta e quindi niente da fare il risultato che non cambia intanto il quinto fallo di squadra il sesto fallo di squadra per il Trissino tre secondi ancora per arrivare alla conclusione ultimo trilo proprio di Malagoli e finisce qui il derby tra Sandrigo e Trissino con il risultato di 8 a 5 per il Trissino grazie a Letti e ricordiamolo nel primo tempo al sesto minuto Cacao quindi pareggia Garzia il settimo al sedicesimo ancora Garzia porta in vantaggio il Trissino Nicoletti dopo pochi secondi per il 2 a 2 Pozzato per il 3 a 2 dopo un'altra manciata di secondi Malagoli al 22esimo invece va a siglare il pareggio del 3 a 3 con cui si finisce il primo tempo secondo tempo apre le danze Neves al secondo minuto il sesto Pozzato per il 4 a 4 poi al decimo e al dodicesimo Malagoli e Neves per il 5 a 4 6 a 4 Poletto quindi per il 5 a 6 ma poi Garzia al diciassettesimo e Malagoli al ventunesimo per il 7 a 5 quindi l'8 a 5 finale una bella partita giocata da entrambe le squadre in maniera assolutamente aperta con il le due squadre che si sono affrontate e sono state in perfetta parità praticamente fino al decimo del secondo tempo Trissino va a portarsi si porta a casa tre punti importanti mentre per il Correggio per il Correggio per scusate per il San Drigo ci sarà la possibilità di rifarsi settimana prossima che andrà a Monza mentre il Trissino andrà a ospitare il Correggio per quanto riguarda la partita di questa sera da parte di Studio 7H di Flavio Zata dalla regia Ivo Peretto alla voce per questo derby di San Drigo è tutto ciao